Sì, la trattativa diciamo che è stata abbastanza semplice perché quando mi ha contattato il direttore Perinetti ha messo subito in chiaro le ambizioni di questa società e la storia della società parla da sola quindi non ci ho dovuto pensare due volte. Questo inizio di ritiro mi sto trovando molto bene perché stiamo lavorando parecchio però comunque sempre ad alta intensità anche con i compagni si sta creando un bel gruppo. Mi sto trovando molto bene sia col mister che con Pasquale abbiamo installato subito un bel rapporto e lavoriamo molto bene ma non niente.